E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi siamo su Spenoverse e oggi siamo nell'episodio 7 E ragazzi, teaser, volevo vedere se c'è un altro rimettore, però Questo qua mi sembra un po' tuberanza, quello di tuberanza Però, no, non credo Andiamo avanti con il gioco ragazzi E oggi dove però ci siamo contro gli androidi, non contro cellula So che comunque è un gioco che è uscito un po' di tempo fa, comunque è un gioco che è l'ultimo uscito di Dragon Ball E comunque ha una grande valutazione Ahahahah Ahahahahhhh! Qu… Quanta… Azzzzzacc... Ahahahahahah! Ahahahah! Uoouuuhuhuuhuuhuuhuhuuhuhuuhauhuuhuhuuhuuhuhuuhuhuhuuhuuhuhuuhuuhuhuhuuhuhuuhuhuhuuhuhuuhuuhup. Non è vero, non è vero. Fuola! C-c-c-che? Chissi. Chissure... Chissure! bene ragazzi avete visto il video non lascia morire mister satan riduce la salute di se ha un certo valore quindi partiamo subito e facciamoli oh forfortuna ragazzi non mi ricordo più come si va vero no n no X E' 1 1 1 1 1 2 2 3 4 1 ricordate come si va veloce ragazzi superate anche questa dai facciamo un resto stavo dicendo devo allenarmi un po' con questo gioco perchè veramente madonna poveretto questo dovrebbe essere towa o mira vediamo come ne dico adesso mister satanna bene mister satanna ed è incavolato nel gioco zoku contro sel bene si 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 ... ... ... ... ... ... Cosa? 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 Mirai, per anni che i suoi sono arrivati Niente! Sì, non... Superkai da niente! Vai. Prova di novo che ti acerci su parte di un sacanoma? per morire quindi siamo usciti a far fuori il cappa mamma mia, concludi bene ragazzi, spero che anche questo video di Dragon Balls che non avessi vi sia piaciuto vi vado un po' a ballenare che è la bozzetta vi vediamo un po' di notizia, iscrivetevi al canale e iscrivetevi assolutamente come appena detto bene, se volete aiutarmi condividetelo ciao ragazzi e alla prossima